Siamo con il dottor Nicola Grimaldi, presidente regionale dello SNAMI. Si parla tanto di queste vaccinazioni anti-covid. Dottore, tra l'altro da poche ore c'è la possibilità di dare la propria adesione per le vaccinazioni degli over 80. Voi come medici di base e di famiglia siete pronti? Avete dato la vostra disponibilità per poter iniziare a vaccinare la cittadinanza? Intanto noi siamo convinti che per uscire da questa pandemia l'unica strada è vaccinarsi, tanto è vero che noi medici di famiglia per la maggior parte già ci siamo vaccinati. Abbiamo comunque aderito al progetto La Regione che ha dato questa disponibilità che i nostri assistiti gli over 80 possono comunque già, non è una vera e propria protezione, ma è dare una disponibilità alla vaccinazione. È chiaro che questo è un compito principio del medico di famiglia, quindi noi siamo ben contenti di vaccinare la nostra popolazione che conosciamo, con le loro patologie e con le loro proprie disponibilità, in modo da vaccinare al meglio tutta la popolazione. Solo che i vaccini non ancora arrivano, quindi c'è bisogno ancora di pazienza. Se i vaccini verranno fatti soltanto dalle unità vaccinali delle ASL, ci vorrà anche quasi un anno per poter coprire la popolazione e solo appoggiandosi alla medicina generale, i medici che hanno sempre vaccinato la propria popolazione, si potranno avere dei tempi molto ristretti e quindi la popolazione potrà essere soddisfatta al più presto. Si inizia a vedere, dottor Grimaldi, finalmente una lenta discesa? Guardi, una lenta discesa la vediamo anche noi, i nostri ambulatori, perché in effetti non c'è quell'assillo di una volta delle telefonate per le febbre, per la preoccupazione di trattarsi di un Covid o meno. Però se non si vaccina purtroppo noi non ne usciamo da questo tunnel, quindi sicuramente bisogna vaccinarsi e poi anche se la vaccinazione, se l'infezione si è un po' abbassata, dobbiamo comunque tenere la mascherina e dobbiamo tenere le debite di stanze, perché se no comunque ci si è rinfetta.